Un ennesimo appalto sospetto scuote la sanità e la politica abruzzese. Si apre un nuovo filone nell'inchiesta che ruota attorno all'imprenditore e dirigente sportivo Vincenzo Marinelli, che secondo gli investigatori avrebbe fatto da ponte tra la politica e il mondo degli affari ed è ora indagato, insieme alla figlia ed altri collaboratori, per reati che vanno dalla corruzione alla turbativa d'asta. Sotto la lente di ingrandimento è il project financing per il polo oncologico dell'ospedale di Chieti e le due gare d'appalto, una della regione Abruzzo e l'altra del comune di Pescara, per la fornitura di autobus elettrici. Ora però si è aperto un nuovo filone dell'inchiesta. Il PM Andrea Di Giovanni vuole vedere chiaro anche sull'appalto riguardo la pulizia e la sanificazione di ospedali e strutture delle quattro aziende sanitarie. Con questo nuovo filone, alla lista degli oltre 20 indagati, si aggiunge il nome di Daniela Valenza, segretaria della giunta Marsilio, ma con ruoli apicali anche nella precedente giunta regionale. La Valenza, che venerdì ha subito le perquisizioni delle forze dell'ordine, è indagata per turbata libertà della scelta del contraente in qualità di commissario ARIC, l'Agenzia regionale di informatica e committenza. In questo ruolo, attraverso l'adozione di atti amministrativi, si legge nell'imputazione provvisoria, concorreva a turbare il processo amministrativo diretto a stabilire il contenuto del futuro bando di gara, non ancora giudicato, al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente e, in ultima analisi, al fine di assicurare la giudicazione in favore della DM Società Cooperativa. I fatti contestati sarebbero avvenuti lo scorso primo aprile. Oltre alla Valenza e a Marinelli, nella lunga lista di indagati ci sono nomi di spicco, quali quelli del presidente del Consiglio regionale Lorenzo Sospiri e dell'ex assessore Mauro Febbo, entrambi di Forza Italia, così come quelli dei leghisti Fabrizio Di Stefano e Sabrina Bocchino, quello dell'ex assessore alla sanità della giunta d'Alfonso, Silvio Polucci, e del direttore dell'ufficio Monopoli Guido Dezio. Gli interrogatori inizieranno domani, quando Febbo si recherà in procura. Il capogruppo in regione dei forzisti sarà ascoltato riguardo il filone del project financing, e dovrà spiegare la provenienza di quel mezzo milione di euro, di cui circa la metà in contanti, che la finanza ha trovato in una cassetta di sicurezza intestata alla figlia del politico.